Buonasera a tutti e benvenuti a Primo Cittadino, il programma di Fano TV che come ogni lunedì torna in diretta dalle ore 19. Ospite di questa serata è il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci. Buonasera sindaco. Buonasera dottoressa Zonghetti, grazie per l'invito. Abbiamo tantissimi argomenti da trattare questa sera, partiamo subito dalla sanità perché c'è l'ospedale di comunità che dovrà sorgere entro il 2026, un importo veramente importante. Qual è l'iter sindaco? A che punto siamo? Siamo finalmente al raggiungimento delle risorse, cosa che non era scontata e ringrazio la regione per aver messo nel bilancio di assestamento quell'oltre milione di euro che mancavano per la finalizzazione di quello che è il progetto esecutivo e che spero sia cantierabile prima della fine del mio mandato perché a giugno mi scade il mandato e spero di vedere almeno i primi mattoni nella primavera del 2024. Un intervento importante, siamo quasi nell'ordine dei 5 milioni di euro, 3 milioni e 6 da PNRR, come dicevo prima la regione ha integrato le risorse che poi mancavano da quello che era il progetto preliminare avanzato l'anno scorso dagli studi anche dovuto appunto all'aumento dei costi delle materie prima, energia e quant'altro. Quindi un ospedale che vedrà i 15-20 posti letto e adesso è in mano all'ast, uno la dottoressa Storti a cui faccio il mio grosso in bocca al lupo anche per la nomine per l'impegno che dovrà assumersi in tutta la provincia di Pesaro Urbino e sono fiducioso perché affinché si realizzi quanto prima una struttura necessitante naturalmente è a Monbaroccio ma non è di Monbaroccio, è un ospedale di comunità che riguarda un territorio intero, un'area baricentrica tra Pesaro e Fano facilmente raggiungibile con le due strade provinciali e che dovrebbe dare quel supporto alle due strutture ospedaliere, due stabilimenti ospedaliere di Pesaro e Fano che necessitano di strutture per far sì che anche le eventuali liste d'attesa siano meno lunghe rispetto al passato. E poi sarà anche autosufficiente dal punto di vista energetico, quindi zero emissioni, sostenibili, logicamente all'avanguardia. Assolutamente sì, è un grosso impegno che si è preso dalla Regione, per questo lo ringrazio dubbiamente perché l'attenzione da questo punto di vista è fondamentale è una struttura totalmente nuova rispetto ad altri interventi che andavano a rivisitarle, strutture in essere ma che fortunatamente prevederà una struttura sia logisticamente baricentrica ma anche a totale efficientamento energetico. Un altro, altri lavori che sono veramente attesi, si attende l'inaugurazione, è quella di Palazzo del Monte. Quando, Sindaco, si potrà tagliare il nastro? Siamo arrivati, ci siamo andati l'obiettivo, riesco oggi dall'incontro con i tecnici, è un intervento da 650 mila euro, 450 mila ce la siamo sobbarcato come comune, quindi con un impegno finanziario e economico di mutuo che grava sulle nostre casse ma che congiuntamente con la maggioranza e la minoranza abbiamo condiviso e che grazie anche al supporto regionale di altri 200 mila può prevedere un intervento di 650 mila euro complessivi ma anche a fronte di ribassi sono interventi ben più importanti che ci permettono di dare la luce a un palazzo che culturalmente vi invito a venire a visitare. Ha una valenza importantissima. Ha una valenza importantissima, porteremo, e oggi ho chiuso con gli uffici, porteremo la sala a consigliare all'interno di questo palazzo in modo tale che il bilancio di previsione che faremo entro l'anno, mi auguro di fare un regale monbaroccesi entro Natale prevederà la seduta consigliare all'interno di questo palazzo. Quindi c'è un percorso storico, un percorso scientifico, un percorso culturale, un percorso amministrativo all'interno di questa struttura che è fondamentale non solo in ambito culturale ma degli studi che abbiamo fatto anche a fronte di tanti bandi in cui abbiamo partecipato consideri, dottoressa Zonghetti, che quel palazzo ha previsto una progettazione in primis di 125 mila euro per uno studio di esecutivo definitivo strutturale e uno studio di fattibilità di altri 58 mila euro che si integrano a quelle risorse che sono i 650 mila oltre i ribassi. Quindi andiamo nell'ottica di un investimento complessivo di un milione di euro perché crediamo che quel palazzo non sia solo fonte culturale, non sia solo fonte scientifica, non sia solo motivo di studio ma sia anche un valore economico e frutto di attività lavorative e di posti di lavoro che possono derivare dall'utilizzo e dal recupero di quel palazzo. Andiamo avanti sindaco, interventi anche alla cinta muraria. Esatto, ringrazio, questa sera la regione la tirerò dentro spesso perché comunque sono stati molto collaborativi e mi permetto di evidenziare il fatto che essendoci diversi sindaci, almeno quattro, in giunta questo aspetto è fondamentale per capire le esigenze dei territori, che ha fatto il sindaco se lo porta dietro e se poi ha la fortuna di poter far sì di rappresentare quella che è la sua esperienza all'interno di una giunta regionale capisce le esigenze di un territorio. E gli assessori, nonché il Presidente, hanno capito quello che debba essere il connubio fra i territori comunali e quelli regionali. E questa è la riprova perché quelle cinta murare che sono per noi oggetto di visibilità in primis quando si arriva nel nostro territorio hanno fatto sì che noi facessimo diversi progetti quindi sette stralci. Il primo stralcio finanziato dal Ministero per i 220.000 euro che abbiamo già messo a terra e già messo appunto come lavori finiti, più ci sono 370.000 euro che permettono di integrare al primo stralcio gli altri due stralci. Quello a finale dello sferisterio, quindi verso il teatro, e quell'altro frontale al bricciotti, la nostra struttura storica sanitaria su cui poi magari in futuro torneremo perché abbiamo diversi progetti da presentare. E quindi andiamo a dare lustro, beneficio e sicurezza in primis a quelle che sono le cinta storiche. Ci tengo a dire sicurezza perché questi interventi non solo vanno a migliorare la qualità e la visibilità di quella parte storica, ma permettono di mettere in sicurezza quelle mura che hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di essere messi in sicurezza anche perché quella prevenzione, in particolare per il discesso idrogeologico, ci permette di eliminare l'effetto moltiplicatore del danno, io lo definisco. Cioè 370.000 euro se non spesi in via preliminare, in via manutentiva, rischiano di creare con quelle che purtroppo sono le circostanze che ogni giorno ci troviamo a vivere, purtroppo sempre di più legate al fattore climatici, l'effetto moltiplicatore del per 4, cioè potremmo rischiare di aver danni per 1.300.000 o 1.400.000. Questo è già successo nella parte opposta del Porta Maggiore, cioè verso Porta Marina, laddove una manutenzione di 100-150.000 euro non fatta per tante difficoltà, anche di bilancio, ha fatto purtroppo, ha prodotto una calamità su quel muro, un'implosione, perché è fagocitato su se stesso, di 600-1.000 euro quella volta. Quindi questi più o meno sono gli effetti moltiplicatori della mancata prevenzione. Pensiamo a un discesso idrogeologico su un territorio compreso, complessivo, che cosa voglia dire in termini di prevenzione. Tra l'altro la cinta muraria è proprio il biglietto da visita forse più bello di Monbaroccio e quindi è giusto anche continuare a prendersi cura di questo bel patrimonio. È meravigliosa quella cinta, ha ragione. Altro capitolo importante è quello che riguarda le scuole. Partiamo da quella di via Zandonai, dalla riqualificazione di questa scuola, un plesso appunto scolastico, intervento terminato. Intervento terminato, abbiamo messo a terra i primi fondi PNRR, siamo veramente contenti e ringrazio i tecnici perché si sono adoperati tantissimo. Abbiamo rivisitato un progetto già in essere perché era un adeguamento sismico, l'abbiamo portato in miglioramento sismico. Abbiamo messo in tutte le aure, come vedete in qualche foro che esce dalle finestre, tutta aria forzata in modo tale che ci sia sempre un ricircolo d'aria anche nei periodi invernali, laddove sarà più difficile aprire le finestre. Tutto coibentato, tutto in efficientamento energetico, tutto in efficientamento antisismico. Ci abbiamo messo i ragazzi in sicurezza e questa era una priorità che avevamo come amministrazione e che teniamo a portare avanti fino in fondo anche perché oltre a quella che è via Zandonai, quindi la scuola primaria e secondaria che state vedendo adesso, accanto c'è una palestra comunale per un altro milione di euro, intervento che andiamo a cantierare entro la fine di novembre, quindi siamo in procinto di, l'azienda, la ditta è già stata assegnata e quindi sono impronti per partire con i lavori. Un altro milione che va nell'ottica della sicurezza delle scuole, nell'ottica della sicurezza delle palestre e nell'efficientamento energetico perché queste strutture ci permettono di risparmiare non solo in termini economici ma avere la possibilità di dare un percorso più rigenerativo a livello ambientale. A questo naturalmente l'altro progetto che portiamo a casa e quindi porteremo a compimento con l'inizio lavori entro novembre. Abbiamo chiesto alla ditta una piccola proroga di un mese per iniziare i lavori affinché potessimo spostare i ragazzi dalla scuola di infanzia presso altre strutture e che appunto inizierà se non per dicembre a gennaio. Quindi una nuova scuola, una scuola che è quella del polo di infanzia di Villa Grande che non prevederà solo, passatemi il termine tra virgolette, l'avere una nuova scuola di infanzia che considerate che è quella attuale del 1950-1952 quindi costruita con carismi di allora, efficientemente energetico, struttura antisismica ma al di sopra di questa scuola, sopra questa scuola avremo un tetto che diventerà una piazza di una frazione che non ha mai avuto la piazza. Quindi una frazione che avrà un cuore finalmente. E poi c'è una vecchia scuola, meglio una vecchia casa popolare poi che è stata demolita e verrà ricostruita. Per far capire alla regia, anche aiutandoli a recuperare le immagini dovremmo avere un video che aveva girato il sindaco e pubblicato sui social che appunto riguarda questa casa popolare, ex casa popolare di Montegiano a ottobre è iniziata la demolizione. Siamo partiti con i lavori, anche lì un intervento importante se non erro tra 1.750.000 e 1.800.000 euro che permette di mettere all'interno di questa frazione che è quella di Montegiano fra le più piccole nota appunto per la fresca 6 Cocone per tanti aspetti che la riguardano Giano in primis che permettono di avere un'edilizia popolare sicura anche questa efficientemente energetico risorse che vedono coinvolto il mio comune in maniera parziale in termini economici è vero che abbiamo fatto i progetti è vero che abbiamo messo tutto in programmazione ma sono tutti fondi, ci tengo a dirle ai miei concittadini che arrivano per gran parte da fondi ministeriali fondi regionali e fondi europei con PNRR quindi per dire l'edilizia popolare che verrà realizzata qui a Montegiano Monbaroccio oltre al progetto ci ha messo 5.000 euro su 1.800.000 quindi giusto per... E siete stati bravi anche voi a intercettare queste risorse? Diciamo che abbiamo avuto dei bravi collaboratori e ci siamo impegnati tutti affinché si realizzassero i progetti e si portassero a casa e che fossero appunto non gravanti sulle casse del comune questi sei alloggi quando saranno pronti? Questi alloggi loro me li hanno garantiti una ditta dell'Aquila che si è adoperata anche nella ricostruzione dell'Aquila post terremoto entro dicembre 2024 quindi sono presi 18 mesi per realizzare mettiamo inizio 2025 più o meno queste sono le tempistiche sono riservati 18 mesi dall'inizio lavori quindi il cantiere è partito tra agosto e settembre e quindi arriviamo per fine dicembre 2024 inizio 2025 io gli ho chiesto il regalo di Natale 2024 Secondo solo, dovreste averlo segnato come ex scuola così vediamo se riusciamo nel frattempo a recuperare il video Esatto, eccoci qua quindi gli ho chiesto il regalo del 2025 quest'anno per il 2023 ripareremo Palazzo del Monte per il prossimo anno vorrei per regalo l'edilizia popolare realizzata eccola qua Eccolo il video è stato girato circa due settimane fa più o meno Sì, siamo nell'ottica di due o tre settimane Eccoci qua Una domanda per lei Il sindaco pensa di integrare la giunta prima della fine della legislatura le chiede un telespettatore Posso dire che ho fatto la nomina ieri dell'assessore esterno Ah, però Volevo aspettare di ufficializzarlo nel primo consiglio comunale utile come appunto prevede la normativa abbiamo individuato una persona tecnica che mi appoggerà tantissimo su quelli che sono i percorsi socio-sanitari del mio comune in particolare sul nuovo ospedale di comunità chiedevo questa figura affinché potesse dar supporto naturalmente avendo un'esperienza importante arriva come ex direttore amministrativo dei Salesi di Ancona e che potrebbe dare un bel supporto anche credo al nuovo direttore generale nonché al direttore amministrativo della nuova Astuno progetti su Bricciotti con cui sto condividendo dei percorsi importanti insieme a questa dottoressa di cui vorrei nominare dare nome e cognome nel momento in cui l'ho ufficializzata anche se insomma sta già collaborando con me e che naturalmente la Residenza Protetta Beato Santo è dove abbiamo altri 40 posti convenzionati quindi avrà delle deleghe specifiche molto tecniche legate al socio-sanitario sia per il piano socio-sanitario appena approvato sia perché sia sull'ospedale di comunità che sull'RSA Bricciotti che sull'RP Biatosante credo possa darci un grandissimo supporto Bene, una bella notizia attendiamo attendiamo di sapere questo nome andiamo avanti con i progetti, i lavori e passiamo alla riqualificazione di Via Marte vediamo se abbiamo anche in questo caso la slide perché queste risorse sono invece associate a una mostra permanente Esatto qui abbiamo intercettato 145 mila euro in copartecipazione con la regione Marche in particolar modo con il Gal abbiamo fatto un percorso che riguarda il territorio in ambito naturalistico culturale e abbiamo fatto step by step in parte in questo percorso c'era il recupero della sorgente Pontaccio che abbiamo già realizzato c'è il recupero di Via Marte che collegherà la parte monbaroccese a quella di Montegiano e il tutto collegato che vede da collante la figura culturale e gli aspetti culturali le realizzazioni culturali di Ciro Pavisa attore di inizio novecento che in mancanza di risorse famiglia povera e contadina non poteva far sì che portesse il figlio adempiere gli studi l'amministrazione comunale di allora vi invito anche a leggere gli atti perché sono meravigliosi di quella seduta consigliare si prese la responsabilità e si assunse l'onere di sostenere gli studi di questo ragazzo che a quattordici anni poté far sì di implementare gli studi in Università di Urbino e creare quello che è l'aspetto culturale che ha voluto riconoscere l'amministrazione comunale tutto ciò che venne speso con opere d'arte quindi allestie dipinse le cappelle delle nostre chiese sia al Beato Sante che a Villa Grande che a Montegiano in particolar modo a Monbaroccio vedete questi quadri che sono quelli che saranno allestiti dentro la chiesa di San Marco per far sì che le nostre chiese siano collegate dall'arte dalla cultura ma anche da infrastrutture come quelle dei marciapiedi e in particolar modo come vedete qua il recupero anche di Via Marte Chiesa di San Marco visto che ci siamo nei termini e che stiamo parlando della chiesa che vedrà un intervento per il recupero della facciata per circa 80.000 euro un intervento cofinanziato 70.000 euro di fondi GAL e 10.000 euro di fondi comunali Passiamo invece all'area parrocchiale di Villa Grande Assolutamente poi dove sono cresciuto quindi un intervento che ha visto la collaborazione dell'amministrazione comunale insieme alla parrocchia ringrazio padre Alvaro e faccio gli auguri a padre Aldo per il nuovo incarico che prevede il recupero dell'area limitrofa alla parrocchia sulla quale siamo potuti intervenire che questa qua potremmo intervenire con un finanziamento di 75-80.000 euro grazie appunto a un comodato che la parrocchia ha fatto sì di sottoscrivere con il comune e affinché poi il comune potesse intervenire con un recupero di quell'area legato in particolar modo alle disabilità cioè aree dedicate ai disabili sia in termini di parcheggio ma anche in termini di accessibilità marciapiedi senza barriera architettonica accessibilità alle aree ludiche senza impedimenti questo è un importante risultato che vede la collaborazione di amministrazione parrocchia che trovo sempre più importante rafforzare in particolare nelle piccole realtà perché le parrocchie possono diventare veramente sinergiche il lavoro dei parrocchi può diventare veramente sinergico con l'amministrazione in particolar modo per tutelare i giovani e le nuove generazioni a proposito di giochi ci scrivono che a Villa Grande aspettano un parco giochi e che è questo qua che è questo qua dovrebbe rientrare in questo percorso sì perché ci sono delle aree ludiche che sono veramente in degrado ora che abbiamo questa collaborazione possiamo intervenire come ente pubblico perché quella è un'area privata e con questo intervento che appunto è cantierabile spero quanto prima perché le risorse già ci sono potremo ridare dei giochini nuovi ai nostri più piccoli velocissimi perché poi dobbiamo andare in pubblicità ci spostiamo per un attimo al Beato Sante perché anche lì lavori di riqualificazione sì anche qui ringrazio tutti quelli che hanno collaborato quest'anno perché sono stati interventi importanti legati all'ottocentesimo un percorso che ha visto coinvolta l'amministrazione ha visto coinvolto il commissario Damiano Bartocetti che ha coinvolto direttamente ha visto coinvolto il Vescovo ha visto coinvolto i frati minori del Beato Sante ha visto coinvolta la comunità e tutti coloro che si sono iscritti nell'associazione di cui Damiano ha fatto il Cavaliere Bartocetti è stato presidente e che la Regione ha voluto riconoscere nell'ottica di una riqualificazione che prevederà un intervento quest'anno di 160.000 euro legato al recupero degli altari ligni legato al recupero del refertorio e se rimarrà qualche risorsa andremo a rimettere a posto anche qualche area dedicata all'area interna del Chiostro quindi interventi importanti che sono già cantierati e che hanno avuto addirittura ieri mi è arrivato il parere della sovrintendenza perché l'ho scaricato di domenica che prevederà appunto l'integrazione dei lavori che al momento erano stati bloccati perché ci mancava il parere della sovrintendenza senza di quello non potevamo andare avanti ma che comunque hanno già le risorse hanno già la cantierabilità hanno già la ditta per fare gli interventi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo a parlare di un tasto dolente quello che riguarda le risorse non ricevute per i danni provocati dall'alluvione ma avremo tanti altri argomenti da trattare a tra poco siamo di nuovo in diretta sul canale 19 del digitale terrestre insieme al sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci ve l'ho accennato prima di andare in pubblicità parliamo dell'alluvione perché ci sono stati diversi danni provocati dall'alluvione del 2023 insomma qui ancora sindaco le risorse non si vedono no questo mi è dispiaciuto questo mi è dispiaciuto molto perché obiettivamente abbiamo subito tanto abbiamo subito tanti danni e quando ho visto che molte risorse sono arrivate a Pesaro sono arrivate a Fano con tutto il rispetto per le due città che sicuramente ne avevano diritto sono un'area confinante con un fiume Arzilla che è quello che ha creato maggiori danni sul mio territorio e trovando un'area industriale in grosse difficoltà un'accessibilità allevabilità impedita per diversi giorni mettere tutti i dipendenti comunali giorno e notte che ringrazio come la protezione civile che ringraziano che tutte le forze dell'ordine ha cominciato dalla prefettura ai carabinieri locali piuttosto che la polizia locale che si sono adoperati giorno e notte affinché potessimo garantire ripristinare la viabilità la messa in sicurezza dei nostri tratti stradali nonché di tante altre situazioni e non vederci coinvolti nulla per nulla ma nemmeno con un sopralluogo sul nostro territorio questo lo trovo lesivo a livello istituzionale perché in questi casi ritengo che non si possa fare A, B e C sui territori ma bisogna andare a vedere su quei territori laddove sono i danni a prescindere dalla città che potrebbe aver avuto più danni al mare rispetto all'introterra e viceversa questo lo trovo non mi è piaciuto come atteggiamento semplicemente perché siamo tutti sul territorio siamo tutti a metterci la faccia dalla mattina alla sera siamo tutti a sacrificare giorni e notte H24 sette giorni su sette affinché il nostro territorio possa vivere possa a volte sopravvivere o comunque dare un percorso dignitoso a chi ci vive farlo in questo modo credetemi è stato difficile anche perché tutto quello che abbiamo messo quindi tutte le risorse che avevamo a disposizione nel 2022 allora per il settembre metà settembre dell'anno scorso ma soprattutto quest'anno nel maggio 2023 ha richiesto l'erosione di risorse che avevamo a bilancio per tutto l'anno cioè ha voluto dire che se avevamo 10 per tutto il 2023 in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria noi a fine maggio per garantire appunto la restituzione del territorio ai nostri concittadini a fronte ai danni subiti avevamo finito quelle risorse quindi abbiamo dovuto per portare avanti l'ordine straordinaria tingere ad altro ma tagliare 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 tant'è che quest'anno guarda esco oggi pomeriggio dalla riunione per il bilancio di previsione nonché per le variazioni che dobbiamo fare entro il 30 novembre ci ha portato via tantissimo noi abbiamo quantificato danni in quale settore avete dovuto tagliare? allora noi abbiamo tagliato in turismo valorizzazione turistica abbiamo tagliato purtroppo in cultura per certi aspetti sebbene è stata fatta un'attività molto importante abbiamo tagliato su tutti quelle che erano le risorse degli straordinari piuttosto che su tutto quello che erano altri iter penso alle asfaltature che avevamo programmato e che non possiamo fare penso a alcuni fossi che dovevamo ripristinare che non abbiamo potuto ripristinare che erano in una programmazione ordinaria ma che non vedranno la luce semplicemente perché abbiamo dovuto dirottare qua ma torniamo poi al percorso della prevenzione perché se abbiamo fatto determinati o volevamo fare determinati interventi sul nostro territorio li avevamo programmati anche nell'ottica di quella che era un'attività per eliminare ad eventuali danni quindi rischiamo di nuovo con l'effetto moltiplicatore ho chiesto ho chiesto non solo di fare un sopralluogo non solo di fare quello che poteva essere eco per i territori quindi avere pari dignità ma ho chiesto che almeno si potesse far sì che si liberassero non voglio essere noioso con questioni di bilancio ma che si liberassero determinate risorse noi abbiamo avuto 400 barra 500 mila euro di danni sul territorio comunale a fronte di queste 8 strade chiuse più strade provinciali che abbiamo dovuto ripristinare ho chiesto che almeno si liberassero dai fondi che dobbiamo garantire al governo nel momento in cui dovessimo non sopperire al pagamento delle fatture entro i 60 giorni quindi dal 61esimo giorno in poi partono delle penali per i comuni almeno di togliere quella penale che l'anno scorso si è gravato per 20 mila euro e quest'anno ci andrà a gravare per 15 mila almeno toglieteci quello non è molto almeno evitate di darveli i soldi perché derivano molte volte gran parte da queste situazioni e quindi ci troveremo il prossimo anno a ritardare di nuovo i pagamenti perché quest'anno dovremo dare 15-20 di nuovo al ministero perché le avremo utilizzate o le abbiamo già utilizzate per fare queste quindi tardivo pagamento alla ditta che chiami per spostare l'albero vuol dire che se non rispetti i 60 giorni di pagamento dal 61esimo giorno cominciano a scattare delle aliquote da accantonare e da restituire al ministero ormai non c'è più speranza comunque il sindaco non è possibile in qualche modo avere qualche risorsa io almeno spero che ci liberino quelle risorse che dobbiamo vincolare almeno quelle almeno per pagare l'editto per pagare gli straordinari dipendenti speriamo andiamo avanti parliamo di servizi per i cittadini mi sto riferendo a un istituto di credito perché dopo una chiusura c'è stata un'apertura sì è stata conseguente anche a una scelta che intesa San Paolo che era la banca di riferimento sul territorio ha fatto su tutti i territori nazionali quelli di ridurre le filiali e partita poi con questa riduzione dai piccoli borghi però abbiamo avuto un'uscita e fortunatamente abbiamo avuto subito un'entrata che è quella della BCC banca del territorio BCC di Pesaro in questo caso con cui mi sono interfacciato da subito o meglio ancora prima quando si nasava questa uscita questa chiusura della filiale e loro hanno creduto subito nel territorio hanno creduto in noi hanno creduto in quella che è l'economia industriale e sociale di questo territorio perché ricordiamoci sempre che nel momento in cui mancano i servizi poi piano piano mancheranno anche i cittadini e far venire meno una banca piuttosto che una posta piuttosto che altri piccoli servizi su un territorio vuol dire depredare il territorio di quelle che sono i suoi punti di riferimento e quindi nel tempo anche spopolare questi borghi che fanno io ritengo la differenza in una nazione come la nostra che vive dei borghi vive della loro cultura e sono una peculiarità che nessun altro ha e quindi se non li difendiamo purtroppo saremmo destinati a anche lo spopolamento assolutamente sì mi permetto di aggiungere che oltre alla BCC che ha aperto qualche un mesetto un mesetto e mezzo fa Intesa San Paolo è intenzionata entro l'anno a riaprire un Bancomat cosa che insomma diventa interessante per i cittadini credo che anche questi entro l'anno hanno già preso l'accordo col privato e sarà collocato nella parte nord di Villa Grande più l'accordo e su questo ci tengo a dirlo che è una cosa molto sentita dai miei concittadini nonché dal sottoscritto poste italiane con fondi PNRR nel programma 2024-2025 legato ai borghi andrà a allestire un Bancomat in centro storico lo stanno programmando io sono rimasto con poste che spero per dicembre mi possano dire qual è la programmazione sul 2024 se Monbaroccio rientra se non rientra nel 2024 comunque sarà il 2025 a sia l'allestimento del Bancomat in centro storico ma anche a un rafforzamento degli uffici che andranno a implementare e a rafforzare quelli che sono i servizi della pubblica amministrazione cioè devi richiedere un certificato di nascita piuttosto che altri certificati non dovrai per forza andare in comune a richiederlo ma potrai richiederlo anche presso il servizio postale quindi andiamo nell'ottica di una digitalizzazione importante nell'ottica di un rafforzamento di situazioni che sono quelli dei sportelli bancari che abbiamo appena accennato e che comunque possono garantire al mio territorio di dare delle risposte ne abbiamo perso una però qualcos'altro abbiamo implementato quindi dai il bilancio è abbastanza positivo dall'economia alla cultura con il teatro un teatro che da rilanciare anche insieme a ConfCommercio Marche Nord ringrazio ringrazio tutti i collaboratori della ConfCommercio ringrazio il direttore Varotti e i suoi collaboratori perché è nata questa collaborazione l'anno scorso con l'Itineria della bellezza ci vede coinvolti su più fronti in particolare i percorsi della fede con il Beato Sante che è protagonista e che ci vede coinvolti ho provato a lanciare il percorso della scienza quindi il nostro palazzo del monte con Guido Baldo e tutto ciò che ne deriva e questa è un'opera importante quella dei teatri il nostro era un teatro ligno un teatro storico che è stato purtroppo così ridimensionato per quelle che erano le sue qualità ho avuto modo di apprezzare in questo percorso degli itinerari storici altri teatri in questo qua è quello di Sasso Corvaro che è meraviglioso una piccola bomboniera che è veramente molto accogliente molto suggestiva e che vorrei ritrovare anche nella mia Monbaroccio nel momento in cui ho un teatro che affronteremo l'ultimo percorso per la messa in sicurezza quindi faremo l'ultimo percorso sul teatro legato a quello che è l'antincendio e quindi mancano quei 25-30 mila euro per renderlo almeno conforme a livello strutturale poi andremo a lavorare sul suo interno perché il mio sogno sarebbe riportarlo ligno come era allora difficile però insomma i progetti ce li abbiamo qualche studio di fattibilità l'abbiamo messo a terra e vedremo se qualche risorsa potesse arrivare in questa direzione potrà essere anche un bel luogo di ritrovo per i giovani cultura giovani eccetera quei giovani che lei premia da un riconoscimento alla maggiorità assolutamente assolutamente il coinvolgimento è totale da parte di questi ragazzi che sta è una delle tante ragazze che sono andata a trovare a volte anche in maniera un po' indiscreta dentro casa perché mi presento suonando il campanello e quindi magari non si aspettano neanche ma perché questa scelta la scelta è stata fatta in questo modo io quando dovevo entrare in amministrazione che era la prima volta che mi hanno coinvolto avevo 18 anni perché era il primo periodo in cui però mi sono seduti accanto ti piacerebbe mi sono seduti poi io non ho più visto nessuno e quindi sono rimasto deluso quella volta ma non tanto perché mi aspettavo chissà cosa ma perché non vedevo avevo visto la classica bugia che a volte si racconta con la politica solo per portare a casa qualche voto invece ho voluto fare un percorso diverso coinvolgerli e ogni volta che li ritrovo che mi confronto con loro parliamo un po' più del meno quale studio fai dove vuoi andare qual è il percorso universitario cosa fare nella vita se studierai se lavorerai tante cose insomma e mi piace vederli che si esprimono perché poi sono generazioni anche diverse quindi è bello anche assaporare quello che hanno in mente e capirlo ma dall'altra farli capire che l'amministrazione c'è che abbiamo bisogno di loro per il futuro che sono loro i nuovi amministratori ma soprattutto che laddove il mondo li porterà laddove gli studi li porteranno laddove il lavoro comunque i loro obiettivi li porteranno potranno scrivermi potranno tramite tutti i canali social piuttosto che la mia mail piuttosto che il mio whatsapp che tutti hanno e dirmi guarda sindaco che secondo me a Monbaroccio questa cosa che ho visto là potrebbe starci bene oppure questa cosa che potrebbe essere a Monbaroccio potrebbe farla differente qualsiasi cosa che per loro potrebbe essere anche banale per noi potrebbe non esserlo quindi coinvolgerli renderli partecipi e fargli presente che Monbaroccio oggi e domani ha bisogno di loro e questo per me è importante bellissimo un pensiero va anche agli amici a quattro zampe ci ha inviato una fotografia dolcissima sindaco chi è questo cucciolotto? è uno dei sei meravigliosi cuccioli che abbiamo adottato come comuni di Monbaroccio perché abbandonati credo non sono esperto come si fa a bambona è una meraviglia guarda guarda ce ne erano sei uno più dolce dell'altro quindi faccio un appello mi permetto di fare un appello perché uno siamo riusciti a farlo adottare ce ne sono altri cinque a disposizione per chi vorrà anche al di fuori del comune di Monbaroccio assolutamente sì sono convenzionati con un canile che è quello di Santa Miranda cui noi abbiamo sottoscritto una convenzione che oggi ce li sta accudendo però mi permetto di invitare chiunque voglia a prendersi l'incarico ad adottarli perché non solo sono meravigliosi sono dolci ma che dal canile debbono uscire quindi trovare una famiglia accogliente non vuol dire rafforzare loro e dargli entusiasmo ma vuol dire anche ingingantire e addolcire il cuore di chi li adottirà certo sono di taglia grande diventeranno perlomeno abbastanza grandi per cui anche con un bel giardino non sarebbe male per la loro felicità passiamo agli eventi perché dopo tutti quegli estivi che tra l'altro hanno ottenuto un grandissimo successo state pensando ormai siete indirittura ad arrivo perché siamo quasi a fine novembre siamo a metà però pensate a quelli legati al Natale quindi sono curiosa di sapere il giorno dell'inaugurazione e tutto quello che state mettendo in campo allora mi lasci ringraziare dottoressa Zunghetti intanto il nuovo direttivo della Proloquo eh sì perché a fronte di tutti questi volontari che si sono adoperati in questi anni siamo alla ventiquattresima edizione quindi siamo quasi a un quarto di secolo e quando i mercatini partirono partirono dal piccolo chiostro che rappresentava un piccolo mercatino che era la parrocchia ad organizzare poi si è implementato dal chiostro alla piazza poi dalla piazza via del monte e quindi tutto il burgo passando prima per la parrocchia poi per l'amministrazione comunale poi per la Proloquo che è protagonista in questo anzi come dicevo ringrazio tutto il nuovo direttivo ringrazio la direttrice artistica Bea Vincenzi il nuovo presidente Marco Motta e tutti coloro che con lui si sono adoperati per rimettersi in gioco perché il post pandemia è stato difficile anche per le associazioni quindi ripristinare un percorso rimettere in gioco i volontari trovare la coesione ha creato un grande dispendio di energie di cui sono contento perché oggi abbiamo una squadra bella viva importante coesa che permette di dare lustro a Monbaroccio per ospitare spero quei 20.000 turisti che tutti gli anni abbiamo avuto e che il 25 di novembre troverà l'inaugurazione è una data particolare coincidente appunto con la violenza di genere e quindi non lasciamo indietro neanche quell'aspetto perché con i mercatini proveremo a creare quella sinergia legata a quella a quella ricorrenza legata alla violenza di genere avete acquistato anche delle casette in legno giusto? abbiamo finanziato noi la regione Marche un intervento di riqualificazione turistica legata appunto alle casette di legno dei mercatini che ci permettono quest'anno di recuperare tante casette credo 25 26 che mi ricordo realizzai io insieme all'amministrazione comunale del 2009 2010 in un capannone la notte e la sera e che ancora vedevano la luce ma che insomma sono arrivate alla loro fine quindi avremo un aspetto qualificante in più oltre agli altri che vi invito a venire a vedere ai mercatini prossimi ne parleremo anche nei prossimi giorni perché ci sarà la conferenza stampa ufficiale di presentazione degli eventi abbiamo pochissimi minuti sindaco vorrei chiudere con lei con questo messaggio siamo molto orgogliosi noi mombaroccesi di avere un sindaco così e speriamo che si ricandiderà a questo punto leggero la domanda intanto arriviamo a giugno che sono 7-8 mesi io come ho sempre detto al gruppo io rimetto il mio mandato nelle mani del gruppo che collabora con me perché da soli non si va da nessuna parte se c'è un gruppo collaborativo e coeso da gusto lavorare da gusto portare a casa i risultati e sicuramente diventa tutto più facile perché credetemi è impegnativo però ci sono anche tanti progetti che insomma magari vedranno la luce nei prossimi anni quindi suppongo che lei possa essere orgoglioso di essere davanti a tagliare il nastro sarei orgogliosissimo naturalmente ripeto il mio mandato è in mano al gruppo il gruppo deciderà come abbiamo sempre fatto se sia io o qualcun altro a portare avanti i progetti che abbiamo sempre comunque condiviso Atteniamo allora anche questa risposta nei prossimi mesi Sindaco grazie per essere stato di nuovo con noi Grazie per l'invito Grazie anche a voi per averci seguito un ringraziamento alla regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra noi ci vediamo alle 20.30 per il telegiornale a tra poco Grazie a tutti